Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Così, ciao! Buongiorno, ciao ragazze, bentornati nel canale, benvenuti in questo nuovo video. Scusate, ho il sole, siamo qui ferme in macchina, siamo fuori casa nostra, siamo per uscire. Dove andiamo? Andiamo a fare un giro nel negozietto cinese che è qui vicino casa, perché devo prendere alcune costine, niente di interessante, però ho delle cose da prendere urgenti. E poi, tempo fa comprei un pennello con cui mi sono trovata benissimo, cioè pagai tipo 3-4 euro forse, forse anche meno. Però per stendere il fondotinta mi trovo veramente bene, quindi se lo trovo me ne prendo un altro, perché comunque quello per il fondotinta lo uso tutti i giorni. Io lo uso per stendere il correttore, però comunque lo uso tutti i giorni e quindi mi fa comodo averne uno di scorta mentre lavo uno, così ne ho un altro. E poi vorrei prendere altri due fiori, chiamiamoli così, che comprai quando ho presi le decorazioni natalizie, perché le ho messe in un vaso, ma mi sono resa conto che due sono troppo poche, quindi ne vorrei prendere almeno altre due se le trovo uguali. E niente, facciamo un giro, vediamo se c'è qualcosa di carino da comprare. Anche perché oggi c'è una giornata bellissima, c'è un sole come potete vedere pazzesco, si sta benissimo, anzi fa quasi caldo, e quindi non mi va di stare a casa. Io quando c'è il sole preferisco sempre portarla in giro. E niente, quindi adesso vado e noi ci aggiorniamo dopo. Amore, ciao! Andiamo a fare la foto a papà, sì? Andiamo, facciamo la foto a papà. Ma che belli, guarda! Guarda gli gnomi! Ma sono bellissimi! Oh, bellissimi! Prendi, prendi, prendi! Eccola! La ballina! La ballina! Oh, non c'è più la ballina! E non c'è! Magia, magia, magia! Eccola qua! Eccola! Boom! Come è il cazzo? Intenta! Eccola! Ragazzi, rieccomi! Come vedete, io non sono a casa mia, ma sono a casa dei miei genitori. Parlo piano perché c'è mio fratello che riposa. Ele si è svegliata da una mezz'oretta circa, ha fatto merenda e adesso prepariamo l'albero di Natale. E qui, io ho la felpa perché oggi fa abbastanza freddo e poi ero nel letto insieme ad Ele, quindi ho un po' freddo adesso. Comunque adesso vi posiziono e magari lo facciamo insieme. Scusate per la faccia, ero truccata stamattina, ma poi mettendomi a letto, quel poco che avevo messo non c'è più. E niente, vi faccio vedere come preparo l'albero, come faccio l'albero, sperando di trovare una posizione, insomma, una parte dove appoggiarvi, perché non ho portato con me, non mi ricordo come si chiama, per appoggiare il cellulare. E niente, comunque, se riesco vi posiziono da qualche parte e vi faccio vedere. Scusate per la faccia, ero truccata stamattina. Scusate per la faccia, ero truccata stamattina. 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 La faccia, ero truccata stamattina.